Partecipo a questa campagna testimonial perché credo che sia importante scambiarsi un segno di solidarietà, di fiducia reciproca perché in parte abbiamo passato, in parte dobbiamo ancora superare un periodo particolare senza precedenti e dobbiamo farlo insieme trasmettendoci fiducia, serietà e serenità nelle cose da fare adesso e nel prossimo futuro. Questo gesto mi ricorda il numero due, secondo, anche come seconda chance che noi abbiamo dopo questa pandemia di vivere un'altra esperienza, un'esperienza nuova, con regole diverse ma con un sorriso, un sorriso che dimostra anche determinazione, lo dobbiamo a chi questa seconda chance non l'ha avuta.